largamente condivisa, per la quale quindi c'è bisogno di un impegno di tutti e questo impegno di tutti credo debba vedere soprattutto una predisposizione e io spero che questo dibattito parlamentare faccia nascere questa predisposizione. Questo vale ovviamente anche per la legge elettorale, il collega Cirielli ne ha parlato nel primo intervento, ma è tornata in tanti discorsi che ho sentito durante la discussione. È chiaro a tutti che se non cambiamo la legge elettorale dentro questa discussione condivisa sul nuovo assetto del bicameralismo, sulla riduzione del numero dei parlamentari, insomma su tutte le cose che necessitano anche cambio della Costituzione, la possibilità del nostro Paese di far sì che questa legislatura diventi una legislatura che faccia entrare l'Italia nella Terza Repubblica e non sia l'ultima ancora lunga agonia della Seconda, io penso che questo rappresenti l'impegno che abbiamo tutti insieme. Se siamo qui noi al servizio del Paese e tutti insieme al servizio delle istituzioni è perché crediamo che la Seconda Repubblica sia finita e non vogliamo che questo sia un'agonia che allunga la vita della Seconda Repubblica. Crediamo che dobbiamo entrare nella Terza Repubblica del nostro Paese e per questo c'è bisogno di un cambio di Costituzione.